Tracciare i contorni e i colori delle emozioni della vita, nel bene e nel male. C'è riuscita in versi Provvidenza Migliaccio, la poetessa ligure che a Napoli al Caffè de Paris ha presentato la sua ultima fatica letteraria, Le Ancore dell'Anima, una raccolta di poesie definita un genere raro di erotismo spirituale. In un insolito e straripante mix di spiritualità vengono descritte in ogni sfumatura le ancore, l'amore, l'amicizia, la passione, la speranza e la fede. L'ho chiamato Le Ancore dell'Anima perché anche in un precedente romanzo che dovrebbe uscire in estate c'è un capitolo sulle ancore, perché secondo me nella nostra vita senza ancore non possiamo andare da nessuna parte e nella tempesta non riusciremo a restare a galla, quindi bisogna ogni tanto fermarsi, avere una buona ancora, fermarsi in un porto sicuro e prendere respiro. Solo così potremo poi navigare fino ad arrivare al nostro obiettivo sogno. Per quanto mi riguarda, una delle più grandi ancore è stata sicuramente la fede, ma per le persone che sono ate sicuramente può essere un grande amore, una passione, una passione carica anche di erotismo, perché credo che nell'erotismo e in quello che comporta l'erotismo la mente e il cuore possano trovare veramente un equilibrio e prendere respiro e forza per procedere, ma anche, non so, in un sogno, in un lavoro importante. Quindi tutti dobbiamo assolutamente munirci di ancore, specialmente in questo mondo di oggi che sta andando un po' alla deriva. Nella penna di una poetessa dell'eros, l'arte poetica diventa riparo e respiro di vita, provvidenza colora ogni nota con arcobaleni di speranza. Ad accompagnarla nel giorno della presentazione è anche l'artista Luca Enrico, che ha disegnato la copertina del libro. Ho rappresentato la bambina perché essa rappresenta la nostra parte più fragile di fronte a tutti i problemi della vita. Come ho detto, sta camminando su una terra che si sta sgretolando sotto i piedi, perché la vita di oggi, soprattutto per noi giovani, è molto difficile. Essa è rappresentata sotto a un albero perché questo rappresenta per lei un porto sicuro. Questo può essere la famiglia, una relazione, un'amicizia. I colori non sono casuali. Ho scelto colori scuri, ho scelto di rappresentare la notte perché è la notte che fa più paura, ma è solo in essa che riusciamo a vedere lo splendore delle stelle.